Musica Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Opera Omnia versione Global Ci troviamo nella Divine di Shiva per vedere come ho affrontato e superato il suo Stage Chaos Perché questa di certo non si può definire una Rufenia Plus Non si può definire nemmeno una Rufenia, figuratevi una Rufenia Plus Stage semplicissimo nella quale Shiva non ha praticamente nessuna nuova meccanica Ed il Cundown, perché esiste un Cundown in questo Stage? Ok, si ricarica infliggendo danni di elemento fuoco Ma a che serve? Non ti sciotta, fa poco danno e non ti congela Insomma, il Cundown è senza alcun dubbio la skill più debole del boss La skill più debole di Shiva Che detto in un altro contesto potrebbe far sembrare questo Stage devastante Ma la realtà è completamente diversa A me è sembrato affrontare una Stage Chaos Con più punti vita da parte dei Boss Nulla di più Il team è composto da Ace, Core e Auron Con Sam, Nifrid e Support Quale Support? A cosa serviva il Support? Strategia semplicissima Fate danni, anzi nemmeno quelli dovete fare Poiché il Boss vi congela Ed Ace attiverà comunque le sue trappole Quindi non avete nemmeno bisogno di fare chissà quanti danni Per portarvi a casa lo Stage Insomma, uno Stage noioso e molto molto lento Ora, molto probabilmente questo Stage uscirà con un bel po' di ritardo Dovuto a muove dico, muove spiego Ero convinto che la live fosse lunedì Invece era la domenica Solitamente dopo la live Il giorno dopo o anche due Fanno la manutenzione Ed il giorno seguente ancora Rilasciano un evento Beh, questa volta non è stato così Come detto, la live c'è stata domenica Live che io mi ero perso Visto che ero convinto fosse il lunedì Ed il lunedì, anziché era la manutenzione Direttamente all'evento Ed io, convintissimo che non ci fosse nulla Ho loggato in game verso le 23 Ed ovviamente non avevo più tempo Per poter registrare, editare, caricare, eccetera Oggi che è martedì Riuscirò ad editare questo video Solo in tarda serata E dunque Lo vedrete mercoledì Ma forse stiamo divagando un po' troppo Ritornando alla Chaos Scusate, non riesco a definirla Lufenia Plus Che abbiamo completato in 50 turni Senza subire il KO Subendo 627 punti danno Evitabilissimi E con uno score Pari a 650.000 punti Il che fa pure strano dirlo Visto che ormai si superava il milione A occhi chiusi Signori, che altro dire Se non fate i miss up Come avete distrutto voi Questa Lufenia Plus Ovviamente like Condivisioni a palla Per supportare il canale Iscrivetevi Se non siete ancora iscritti Unitevi anche al server Discord Trovate il link in descrizione E detto ciò Vi auguro una buona visione Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Un po' di un po' di un po' di un po' di uno. Grazie a tutti. 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 , 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 ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, 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 ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,,,, ,,,, ,,,,, ,,,, ,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,, ,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,,, ,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,,.,,,, I n,,, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.